Ciao tifosi napoletani! Il Napoli sta lavorando molto sulla rosa per il prossimo anno e il nostro allenatore, Antonio Conte, ha i piani chiari. Ma prima di entrare nei dettagli, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i dettagli. Antonio Conte vuole una squadra composta solo da giocatori pronti a sacrificarsi e a lavorare duro. Alcuni nostri azzurri sono tra restare e partire, altri invece si sono già assicurati il posto. Tra i giocatori pronti a mettersi in gioco c'è un giovane di ritorno dal prestito, Michael Foloruncio. Ha appena concluso una stagione straordinaria all'Ellas Verona, giocando un ruolo determinante nel salvare gli scaligeri. Mister Conte ha espresso grande apprezzamento per il centrocampista italiano e la dirigenza ha deciso di puntare, molto su di lui. Il Napoli ha ufficialmente rinnovato il contratto di Foloruncio fino al 2029. Il nuovo accordo prevede un ingaggio di circa 1,2 milioni di euro netti a stagione. E non è tutto. Fabrizio Romano ha spiegato il recente ritardo nell'annuncio ufficiale dell'acquisto di Rafa Marin. Napoli e Real Madrid hanno già trovato un accordo di principio per il difensore. Il perfezionamento dell'abbonamento richiederà qualche giorno in più, picché la struttura del contratto prevederà anche una clausola di riacquisto. Rafa Marin firmerà nei prossimi giorni il suo contratto a lungo termine. Restate sintonizzati per altre novità e, come sempre, testa Napoli.